Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. Nella seduta di martedì 29 giugno 2021, l'Assemblea Legislativa, riunita a Palazzo Cesaroni, ha discusso otto interrogazioni a risposta immediata ed ha approvato la riforma del mercato regionale del lavoro. Durante la sessione dedicata al Question Time, i consiglieri regionali della Lega, Stefano Pastorelli e Paola Fioroni, hanno chiesto di conoscere gli intendimenti della Giunta in merito all'adeguamento della modulistica e della documentazione obbligatoria richiesta in caso di comunicazione inizio lavori e asseverata per interventi ammissibili al superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici. L'assessore Enrico Mellasecche ha risposto che nell'ambito della conferenza Stato-Regioni è stato deciso di elaborare un documento unico nazionale. In questo modo il Governo vuole fugare i dubbi relativi alle misure di semplificazione per i lavori incentivati dalla superbonus. Le attività per la produzione della modulistica sono in via di definizione. La consigliera Simona Meloni del Partito Democratico ha interrogato l'assessore Enrico Mellasecche in merito alla pubblicazione dei bandi 2021 per i contributi all'acquisto della prima casa, che dovrebbero essere velocizzati, ha detto, e ampliati nella platea. L'assessore ha replicato che la Giunta nel luglio 2020 ha stabilito i criteri per emanare un nuovo bando, individuando come beneficiari, giovani coppie, single e famiglie monoparentali. Complessivamente sono stati 519 i soggetti ammessi, di cui 129 finanziati e 390 da finanziare. Nel 2021 non sarà però possibile emanare nuovi bandi per la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa. Rimarrà valida la graduatoria 2020-2023. Valerio Mancini, consigliere regionale della Lega, ha illustrato l'interrogazione, firmata anche dagli altri componenti del gruppo, che chiede alla Giunta di attivarsi in tutte le sedi istituzionali necessarie per chiedere di posticipare, alla fine dell'estate, l'avvio dei lavori di ripristino della stabilità del versante sovrastante, la sede stradale, della strada provinciale 471 in Valnerina. L'assessore Enrico Melaseche ha spiegato che rinviando i lavori all'autunno si rischierebbe di allungare i tempi, visto che pioggia e neve fermano i cantieri ed allungano i tempi degli interventi. Ricorre spesso il problema di contemplare l'esigenza di realizzare i lavori e di non creare disagi alla circolazione. I consiglieri regionali della Lega hanno chiesto all'assessore alla Sanità quali misure intende adottare la Giunta per risolvere il problema della carenza di medici di medicina generale nei piccoli comuni e nelle zone marginali del territorio. L'assessore Luca Coletto ha replicato che alla regione non sono pervenute segnalazioni di disagi o di carenza di medici di medicina generale. Serve comunque, ha detto l'assessore, un accordo territoriale che preveda anche una messa in rete con gli ambulatori anche nelle zone più lontane dai centri abitati per rendere un servizio adeguato a tutti i cittadini. Vincenzo Bianconi, consigliere regionale del gruppo misto, ha chiesto chiarimenti sulla tutela dei lavoratori e garanzia di qualità dei servizi per gli utenti rispetto al massimo ribasso nella gara per la gestione di tutti i servizi sociosanitari USUmbria 2 e in tutte le altre procedure future. L'assessore Luca Coletto ha risposto che la procedura per l'affidamento dei servizi sociosanitari è una gara ponte, necessaria per l'impossibilità di ulteriori proroghe degli attuali gestori fino alla giudicazione della gara pluriennale che è stata già bandita. La procedura non è stata aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ma dell'offerta più vantaggiosa dove la componente tecnica ha un peso preponderante rispetto a quella economica. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, ha interrogato l'assessore Luca Coletto per sapere se esista un vero progetto di rilancio per il potenziamento dell'ospedale di Assisi che provveda a risolvere le gravi criticità in cui si trova. L'assessore Luca Coletto ha replicato che nell'ultimo triennio è stato speso un milione e mezzo di euro, cui si sono sommati interventi straordinari di adeguamento degli impianti elettrici per 250 mila euro. Per investimenti e strumentazioni diagnostiche sono state acquisite e consegnate apparecchiature per circa 80 mila euro. Sulle assunzioni, procedure di reclutamento sono in corso sia per medici che infermieri. I consiglieri regionali del Partito Democratico Tommaso Bori e Simona Meloni hanno interrogato l'assessore Roberto Morroni per conoscere qual è il percorso individuato per il rinnovo dell'accordo di cooperazione tra Afor e Adisu, dal quale dipende il futuro di 50 lavoratori, per lo più fragili e difficilmente ricollocabili, che da anni ricoprono molteplici mansioni all'interno dei collegi universitari. Morroni ha spiegato che ad aprile si sono avviati i confronti ipotizzando un accordo di due anni e la possibilità di esternalizzare i servizi di portineria e guardiania. L'accordo avrà durata biennale, con la possibilità di proroga di altri due anni. L'ipotesi di esternalizzazione dei servizi di portineria e guardiania avverrà gradualmente nel momento in cui il personale di Afor non sarà più numericamente sufficiente. All'interrogazione a risposta immediata presentata dai consiglieri del Partito Democratico in merito alle azioni messe in campo per favorire l'accesso al bonus edilizio al 110% e all'iter di modifica del testo unico del governo del territorio ha risposto l'assessore Enrico Melasecche, evidenziando che è stata trasmessa una circolare molto articolata per fornire ai comuni chiarimenti dopo numerose riunioni al tavolo delle costruzioni, intrapreso anche un percorso di modifica della legge regionale 1-2015, testo unico dell'urbanistica, per superare le criticità esistenti nelle definizioni tra norma statale e regionale. Il 19 maggio scorso la Giunta ha preadottato un disegno di legge di modifica della legge 1-2015 sottoposto al Cal e in attesa del parere del Comitato Legislativo. Nella seconda parte della seduta l'Assemblea Legislativa ha discusso e approvato il disegno di legge della Giunta per la riforma del mercato regionale del lavoro e dell'Agenzia ARPAL. Illustrando l'atto in aula, il Presidente della Prima Commissione, Daniele Nicchi, ha evidenziato la necessità e l'urgenza di fare fronte alle gravi conseguenze occupazionali dell'emergenza Covid, anche riformando ARPAL, rendendola un organismo pienamente autonomo delegato all'attuazione delle politiche e dei servizi per il lavoro e della formazione. Le agenzie private potranno svolgere sostanzialmente le stesse attività dei centri per l'impiego, per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, specie quelli più fragili, e offrire servizi alle imprese che sono tenute ad assumere una aliquota, è stata ampliata la gamma delle modalità di assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge nazionale 68 del 99. Una convenzione permetterà alle aziende di assumere una percentuale di quei lavoratori attraverso le cooperative sociali, a cui le imprese dovranno garantire il lavoro. La legge, al termine di un lungo dibattito, ha registrato il voto contrario di gran parte dei gruppi di opposizione che hanno espresso perplessità sulla complementarietà tra pubblico e privato, che non potrà realizzarsi se prima non verrà rafforzato il sistema pubblico. Sul lungo periodo questa legge è stata rilevata, aumenterà la precarizzazione del lavoro e quelle sacche di bassa professionalità, a cui corrisponde anche una bassa retribuzione. Alcuni passaggi del testo sono anche stati giudicati non conformi a quanto previsto dalla Costituzione. Ed è tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. Grazie a tutti!